Qualcosa non torna anche proprio nelle traiettorie e in tutta una serie di altri elementi che stanno contornando questa vicenda. Quindi è possibile, purtroppo, anzi temo di poter usare a ragion veduta il termine probabile, che ci siano altre responsabilità unitamente al discorso omicidiario, con delle, insomma, chiaramente da contestualizzare, però difficilmente che appunto può aver fatto tutto da solo.